Entro settembre la Regione Veneto dovrebbe raggiungere, superare l'80% della popolazione vaccinabile, detto se la popolazione chiaramente aderisce alla campagna. E' questo l'obiettivo della Regione del Veneto da qui alla fine dell'estate con l'immunità di comunità che appare tutto sommato vicina. Oggi su oltre 4 milioni di Veneti il 64,5% ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il ritmo quindi, nonostante il rallentamento delle consegne di inizio luglio, è quello giusto. I numeri sono confortanti anche per la fascia più problematica, quella degli over 60 con l'accelerazione imposta sulle seconde dosi. Per quanto riguarda la popolazione over 60 stiamo parlando di una corte di 1 milione 470 mila persone. Hanno avuto la prima dose 1 milione 314 mila persone, quindi l'88% degli over 60, una percentuale importante. Le seconde dosi rimangono circa 200 mila ancora da effettuare, che verranno effettuate principalmente, 75% di queste 200 mila dosi, verranno effettuate da qui ai prossimi 15 giorni. Quindi entro il mese di luglio la maggioranza della corte over 60 sarà coperta anche dalla seconda dose. Più in generale Pfizer ha sempre rispettato le consegne previste, recuperando anche lo scarto nel secondo trimestre, mentre Moderna ha avuto un crollo del 40% nel terzo trimestre di consegna.